I passi si fanno poco per volta e la Sicilia nel settore dell'erogazione della cannabis terapeutica per i pazienti affetti da dolore cronico è stata meritoria. Il decreto dell'assessore alla salute del 17 gennaio 2020 ha già previsto l'erogazione gratuita dai farmaci a base di cannabis medica, ma adesso ci sono nuovi obiettivi che vanno dall'aumento della produzione di cannabis, che non basta rispetto al fabbisogno, all'estensione della prescrizione per altre fasce di malati come i pazienti affetti da epilessia, tra le richieste anche corsi specifici per una maggiore conoscenza del problema. Il problema è a livello ministeriale, quindi chiediamo che l'ASP di Messina si faccia portavoce tramite la regione per chiedere più fornitura. Sappiamo che è stato approvato l'articolo 57 che poi è stato impugnato dal Consiglio dei Ministri e vorremmo che la Sicilia comunque si continui su questa strada e chieda di dare le autorizzazioni per coltivare anche in Sicilia con privati, pubblici, con le università e soprattutto quello che chiediamo è l'informazione, l'informazione del personale sanitario ma anche delle forze armate, perché molte volte ci ritroviamo ad essere controllati e non conoscono qual è poi l'atteggiamento che devono avere con dei pazienti. Loredana Gullotta, messinese affetta da sclerosi multipla, continua la sua battaglia contro il dolore. È capitato anche in passato che io restavo senza terapia per molto tempo e quindi questo comporta giustamente l'avanzamento dei dolori e altro. Tutto quello che sia proprio nei nostri diritti, che è nei nostri diritti per non soffrire, per stare bene, per vivere bene la vita quotidiana, non chiediamo altro. Io purtroppo sono portata, tante volte che mi mancava la terapia, è normale che ti porta ad andare al mercato nero, ma non esiste assolutamente, quindi sollecitiamo, organizziamo, facciamo, lavoriamo.